Apri il tuo ufficio postale in franchising, siti post e anche pagamento bollettini, sitiposte.it Un problema che sta diventando un incubo per bambini, cani ma anche adulti alle prese da due settimane con reazioni allergiche più o meno gravi e nel caso degli amici a quattro zampe ad un cane sarebbe stato addirittura asportato un pezzo di lingua. Sono gli effetti della temibile processionaria che da fenomeno naturale qual è la larva che diventa farfalla si è trasformato in un vero e proprio pericolo per alcuni residenti di Cretarola. Due di loro sono dovuti ricorrere alle cure mediche per le irritazioni provocate dall'inavvertito contatto con la peluria di cui sono coperte queste specie di bruchi che appunto una volta scese dagli alberi camminano in fila indiana come in processione. Il fenomeno è particolarmente visibile tra i pini vicino alla chiesetta di legno ma numerose segnalazioni continuano ad arrivare anche per la zona del parcheggio e della pensilina dove i ragazzini prendono lo scuolabus. Da giorni alcuni residenti hanno contattato l'ufficio ambiente del comune di Sant'Elpidio per segnalare il problema seppure si tratti di uno spazio privato perché parrocchiale in realtà è un'area di uso pubblico perché c'è anche uno spazio per la sosta e di passaggio verso la chiesa. La paura dei residenti è che queste sacche piene di larve con il caldo di questi giorni si schiudano portando ad una vera e propria invasione verso i campi e le loro case. Il comune ha comunque già inoltrato la segnalazione all'Assam che a giorni effettuerà un sopralluogo per capire come intervenire.